No, non sta a morsicare Non so che non lo sta a morsicare E' una mosca vera, ma tra virgolette Quindi mi raccomando, spero quest'anno di poter Sotto il voto tuo va dentro Ok, grazie a tutti E a breve inizierò a chiamare la categoria Grazie Vedete che ci metti per oggi, sai tu c'hai paura? Io ti metto qua? No, no Per carità Però te vanno rigirà, è vero Un attimo E' andato in poco eh Distrazione Ciao